Salve ragazzi, benvenuti al primo tutorial di Hattest 2004. Come ben sapete il gioco più difficile è appunto il sollevamento pesi. Ci sono molti che usano la tecnica della X e appunto c'è che bisogna premere ripetitamente, che usano solo le due dita, così, impugnando il joystick in questo modo e facendo così. Ecco, la mia tecnica è molto differente. Allora, io appoggio appunto il joypad nella, come si chiama, in un tavolino, qualche piano, diciamo, e poi alterno appunto usando l'indice della mano destra e l'indice della mano sinistra per il C e il X. Allora, per chi non dovesse sapere appunto, non dovesse conoscere il gioco, adesso sto a selezionare appunto il peso per il bilanciere. In base appunto a quanto è pesante, più è difficile completare la missione, diciamo, per virgolette. Molti fanno così, prendono il joystick e fanno così. In teoria, si potrebbe fare fino a quando, vedi, come in questo caso, alcune volte non si riesce perché non si riesce a caricare velocemente la barra. Tremmo appunto X cerchio con l'indice della mano destra e l'indice della mano sinistra. Allora, basta fare questo movimento e si alterna. Ovviamente, bisogna farlo sempre più veloce per riuscire a fare appunto l'impresa. Fino a quando poi, appunto, io in questo modo mi trovo molto meglio, anche perché molti non ce la fanno perché in questo gioco, dopo che riesci a raggiungere, come vedete, le barre, le barre richieste, bisogna premere lì una. Molte, appunto, con questa tecnica potrebbero trovarsi male perché oltre a scacciare X, eccetera, ripetutamente, devono premere anche lì un incasso. Io ovviamente mi trovo meglio con questa tecnica che, grazie a questa tecnica, mi ha portato a sollevare, a battere, diciamo, il record, record, oddio, 275 kg di peso. Il tivo cercherà di sollevare 275 kg. Prova di Enrico Caria. Prova di Enrico Caria. Prova di Enrico Caria. Ciao! 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 Questo uomo ce l'ha fatto! Bravo! Bravo! Allora, benvenuti ragazzi! Qui sono qui Enrico Cariglia che vi mostra il primo tutorial... Allora, salve ragazzi! Benvenuti al primo tutorial... Tu che fai così... Sì, sì! Benvenuti ragazzi! Questo è il primo tutorial di Athens 2004! Nooo! Allora, salve ragazzi! Benvenuti al primo tutorial per Athens 2004! Allora, come ben sapete il gioco più... Diciamo che lo sport più difficile di Athens 2004 è solamente pesi! Non so se voi provate diverse tecniche del tipo soltanto con due ditta... Così! O sennò... Non so in che altro genere... Comunque si è e vi spiego il mio! Visto che questo dovrebbe essere il primo tutorial dato che su Youtube non c'è! Ehm... Ehm... Allora... Il trucco è... C***o che ti metto! Prova da 275 kg Enrico Cariglia! C***o! Nooo! C***o! Questo lo lasci eh! C***o! 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 Come ben sapete, anzi per chi non lo dovesse sapere... Adesso stiamo selezionando appunto il peso del... C***o! Del bilanciere! Dai, dai, fai Come si chiama? Il peso, sì, del Il bilanciere si chiama Il bilanciere, sì, sì Siamo sicuri che si chiama il bilanciere E mai che mi è venuto il dubbio, cazzo Sì, è il bilanciere comunque 3, 2, 1, via